Ok, sono felice di visitare un po' i miei veloci raptor. Eh, fermi, fermi tutti, fermi tutti! Ok, state fermi così, per favore non fate niente di insolito, non fate niente che possa essere insolito. Blu, stai fermo, stai fermo dove sei. Ok, ehi Charlie, non fare niente, non fare niente di insolito! Ehi Charlie, non fare niente di insolito! Ehi, non fare queste cose! Nooo, no! Blu, no, non fare queste cose! Ok, ora, piano, piano, e seduti! Ho detto tutti quanti seduti! Visto come riesco, visto come riesco a dominare il raptor? Si gioveva molto bravo con me! Allora, vuoi venire qui? Avere i miei dinosauri? Chi è? Chi è? Tu! Vengo subito! Ok! Vedatemi solo un secondo, che mi devo vestire, mi sono un attimo di vestita, perché mi era appena spacchettato! Come dire, sono una lol, a giurezza da giù! D'accordo! Sto per venire! 3, 2, 1... Da-daaaaan! Non vi dico chi sono! Volete che vi dico chi sono? No! Lo volete, lo volete, lo volete? Lo volete? Ti prego! Dite di sì! Dite di sì! Dai, dite di sì! Shhh! Bene, ci siamo, ce ne andiamo, ciao! Bene, mettete un like se vi piace il video, ciao!